E' stata smantellata un'organizzazione criminale che combinava matrimoni tra italiani e stranieri per ottenere poi il permesso di soggiorno. 18 sono finiti in manette, tra cui 5 uomini di nazionalità marocchina, un italiano e 12 donne italiane. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazioni per delinquere finalizzata a favorire il lecito ingresso e la permanenza nel territorio italiano di stranieri clandestini irregolari. L'operazione è scattata all'alba di oggi tra le province di Napoli, Caserta, Bergamo e Milano condotto dai carabinieri della Compagnia di Caserta al termine di indagini coordinati dalla Direzione Distrittuale Antimafia di Napoli e in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP partenopeo. L'indagine avviata nel 2019 si è conclusa con una settantina di indagati. I clandestini, secondo i carabinieri, pagavano somme che andavano dai 5.000 ai 6.500 euro in contanti. Una volta incassato il denaro, l'organizzazione li metteva in contatto con un cittadino italiano che avrebbe fatto da finto consorte. Per gli inquirenti l'organizzazione aveva ramificazioni nei comuni di Napoli, Castelvolturno, Mondragone, San Cipriano d'Aversa e Avezzano. È tutto, Lorenzo Applauso, per casertasera.it